In questo modo, noi abbiamo due settimane riunioni del Parlamento del Reino, quindi il Parlamento di Holanda, Aruba, Corso e St. Marte, abbiamo riunito, quindi abbiamo un'agenda vasto e extenso con diversi tópici. E un tópico è che noi abbiamo fatto un follow-up di oggi, mi chiede a treci di lante, e se è arriva un'instanza che il Parlamento, in questo caso la nostra frazione, ha chiesto del Parlamento Holandese del tratamento del Statuto, ha chiesto anche un'instanza independente che ha discutito e determinato ora che ha differenza di opinione tra i paesi del Reino, riba e statuto, e l'instanza che ha deciso di chi ha ragione. Noi abbiamo, per quasi 60 anni, un statuto per determinare come il Reino sta funzionando, come le autorità autonome e le direzioni di ogni paese, e anche per determinare come il tema del Reino e come la nostra attenzione conjuntamente. Sin embargo, un problema del Statuto è che è che c'è un'appalabrazione nel cominciamento tra tre paesi, tra Holanda, Antia e Suriname. Nel anno 1986 trovi tre paesi, Holanda, Antia e Aruba, e ora qui è un'appalabrazione entre quattro paesi, Holanda, Aruba, Corsovo e St. Marta, sin embargo, il Statuto è che c'è un'appalabrazione tra quattro paesi, c'è un'appalabrazione che ha diversi articoli, un dei paesi qui ha il diritto di interpretare chi ha ragione per interpretare il Statuto. è che c'è un'appalabrazione della nostra opinione del Statuto, e per sei mesi, la nostra fraccia, e il collega Herdei e mia persona, ha entregato un'appalabrazione nel momento in cui la nostra attrata è Statuto nel anno 2010, il cambio di Statuto, nel momento in cui Antia ha disolato e ha creato il Corsovo e St. Marta, in cui è un'appalabrazione qui, con un'appalabrazione con un'appalabrazione del Parlamento Holandese, e noi facciamo un'appalabrazione di un'appalabrazione di un'appalabrazione di un'appalabrazione e di un'appalabrazione 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 di un'appalabrazione